attesa aspettare silente è la soluzione liberare la mente da punte acuminate scegliere di aspettare per sperimentare il lato opposto voler aspettare per mettere in campo il potere del cambiamento diventare quello che in fondo si è sempre stati un volto mille sfaccettature immagine magnifica di noi ombra e luce la percezione sovrasta i sensi